Nel Veneto ebbero sedi principali ministeri della Repubblica Sociale Italiana, oltre alle strutture amministrative, militari e repressive del Dato. Quella sera mi ricordo benissimo, quel novembre, che eravamo fuori, che stavamo giocando con i miei fratelli. A un certo punto siamo stati, sono presi da un forte botto, che non sapevamo cosa era, ma c'era un po' scossa. Una cosa di certo sappiamo, chi e come morirono il 16 novembre del 1944. Quanti urli, quanti pianti, non poteva toccare il papà. Quanti urli, quanti pianti, non poteva toccare il papà.